Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. È molto breve, vi dico semplicemente che vi aspetto tutto il giorno, oggi sabato 16 a Milano, in Vialecco, per i mercatini di Natale. Ci sono io e c'è lui, il mio compagno di vita, e tutto il materiale che è nei miei viaggi, tutto ciò che potete scoprire, che non avete ancora letto in rete, lo trovate qui a Milano fino alle 24 di quest'oggi, 16 dicembre. Ciao e ci vediamo al prossimo.